musica 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 no si mi sa che il il letter cioè l'enchanting table dovrà attendere che fare un enchanting table senza librerie è abbastanza inutile onestamente però inizierò a mettere da parte le cose per fare le librerie fin da subito indiana quit alla ricerca delle mucche perdute pop 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 riuscirà il nostro errore a trovare delle mucche dentro 3 2 1 va bene ragazzi io torno a casa ci vediamo lì ok ragazzi benvenuti a casa e e e e e e vediamo un po' se questi stanno andando no finito tutto spegnetevi perfetto questo ormai ha finito di andare ma ne abbiamo a pizza f va bene quindi abbiamo deciso che la crafting table cioè la crafting table per ora finchè non riusciamo a raccogliere più materiali non se va perché sennò è un casino ma 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 cos'altro possiamo fare mi dico io allora 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 dopo la crafting table dobbiamo costruire casa e quindi va bene lavoriamo un po' sulla towncraft dai mi sembra la cosa più intelligente da fare un po' di quick silver qua proviamo no niente di tutto questo ok quick silver dentro proviamo l'ambra ambra vieni qua niente neanche le shekels ai 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 andiamo con uova questo 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 andiamo con questo solo potenti potrebbe essere quindi facciamo cursori ok yes potenti se li abbiamo go go vediamo c'è un fire shard mettiamolo il vis shard non ha potenzia 79% ah è sparito vabbè deve qualcos'altro con potenzia eccolo qui perfetto ed eccoci qua potenzia è andata 91% dai 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 perfetto e adesso non sappiamo cos'è quell'altra roba continuare a far la ricerca qua continuare a far la ricerca qua just because we can no eh allora allora guardiamo un po' se abbiamo qualcosa quindi potenti c'è proviamo con questi sempre con cursori no niente di tutto questo c'è questi niente di tutto questo c'è proviamo con un po' di torce lux sembrerebbe di no ok ho perso un sacco di torce a caso mmm non c'è né volitio né tellum perfetto no il leather no perché ho passato una vita circa ok uuuh attenzione la string ha avuto effetto e questo di sicuro non è quindi string non mettevamo la string qua dentro sì che qua allora tac tac ok uno di questi è pannus perfetto zero dai 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 pannus oddio ce ne sono quattro va bene ehm niente di tutto questo questo sempre pannus no mmm prendiamo dei lapis un po' magari è roba preziosa no? potrebbe essere dai dici qualcosa yes roba preziosa zero go go dai di cattiveria uuh e abbiamo anche del cognito texia ha studiato a speak of miniature clothing and accessories that can be used to improve animated servants ma oddio no è un cappellino per i golem della towncraft non ci credo devo dirlo a Luke assolutamente ma assolutamente proprio assolutamente proprio allora tutto 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 usiamo questo e ne mettiamo un po' qua e facciamo cursory perché tanto ormai così alla fine per no ancora un po' 100% completato ok ora cognito vediamo ferro tanto l'utilizzo senza fare grandi progressi però ne possiamo fare così e crearcene altro perfetto andiamo a scoprire cos'è questa ricerca dai 95 non ci credo vieni qua dammi dell'altra carta le cartine yes il tiny hat ok ho appena scoperto dei cappelli il che mi rende molto felice ha si fa con black wall o col dingot e quindi posso mettere le cappelline ai miei golem va bene le cose inutili che non vorresti mai sapere iniziamo a ricercare un po' di questa roba tipo da un po' di prove che avevo fatto se mi ricordo bene dovrebbe esserci qui prendiamo questo è Ignoe Fracture si con Ignoe Fracture va bene poi possiamo usare tipo un po' di coal c'è il coal anche si anche c'è il coal dai e il lux quindi le torce che noi abbiamo qui nel posto allora facciamo una ricerca con un po' di coal il ed eccolo qua e la seconda cosa che ci serve è sicuramente la lux se ho fatto bene i miei calcoli yes eccola lì dai dammela dammela yeah ok e abbiamo craftato il nitor adesso il nitor sono queste figate qua tutto 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 queste qua si fanno con 4 Ignis 6 Lux e 4 Potentia quindi serviranno queste hanno 2 Ignis 2 quindi 2 coal e ok quindi vieni qua calderone 1 2 ok 1 2 3 4 oh mi stanno buttando giù la porta vieni qua sto cercando di fare della magia qui per piacere andate andate in un'altra parte testimoni di Geova mi hanno craftato? no non ci credo perchè non me l'ha craftato? una persona triste adesso lo craftiamo bene eh poi no era 6 cavolo ah dove ne sono andati vedi? testimoni di Geova le devi trattare così allora craftiamoci un altro po' di tolce sono sempre utili anche perchè le ho finite del tutto quindi mettiamola qua bam nice noi prendiamo questo charcoal lo buttiamo qui non c'è acqua pardon calderone oddio mi sto bollendo vivo aaaah no va bene tac ok eccolo qua mettiamoli dell'acqua dentro poi buttiamo ok buttiamo oddio perchè non mi viene più fare uno due poi uno due tre quattro cinque sei poi bacchetta e tramam yeah il nostro nitor il nitor è molto figo perchè per esempio possiamo attaccarlo a un muro così e fa luce in tutta la stanza va a te che figata e oltre tutto viene utilizzato anche per altre cose comunque il nitor è una figata va bene lasciamola lì questa lucina qua mi piace ottimo poi altre ricerche dai ultima ricerca perchè credo che chiuderò questo episodio ok vediamo qui di sicuro dell'altro coal via e facciamo così mettiamo della gunpowder ok oddio cosa vuoi ho detto che non vogliamo volantini di nessun genere via non ci interessa nessuno di gioco grazie sono chiuso fuori casa che bella sta lucina è come un lampadario iperfigo vediamo se è ancora lux no non è lux cos'è che potrebbe essere sia fracturus che ignis c'è forse è potentia dopo la potenza c'è qua ecco si è potenzia perfetto questa invece è la discovery dell'alumentum praticamente è una versione del nitor che però esplode da quello che mi ricordo e scava praticamente è come una granata e si fa con aspettate con 3 fractus 6 ignis e 6 potentia quindi sarebbero 2 e 2 il gunpowder 4 e 4 quindi 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 hm e 5 kiss ovviamente comunque 3 fractus 2 mettiamoli dentro 4 mettiamoli dentro uno di questi eh si senza acqua ancora quit dai sveglia ci vuole l'acqua nel calderone uno di questi su bolli hai della lava sotto non puoi non puoi ah che dolore fa male quando ti va ok se ne fatti se ti bolli vivo non puoi fare male questi quindi per ora abbiamo messo 4 potentia e 6 ignis 3 fractus quindi mi serve un altro poi pam ea abbiamo dell'allumentum l'allumentum lo possiamo utilizzare in questo modo per esempio una cavia cavia vogliamo una cavia allora cerco cerco una cavia e tutte le le papere i chicken spariscono di cattiveria su ragazzi non vi voglio mangiare voglio solo una cavia che cavolo oh qualcuno ha fatto una query andiamo a vedere si c'è una query deve essere il nostro caro marcus che ha già fatto la casa per figa un bambini allora un po' un po' un po' un po' un po' un po' le cavie non trovo nessuna cavia che palle una persona triste estremamente triste vabbè comunque è un fà questo bongia yep praticamente le granate è una figata assurda e io sono molto contento di averla trovata e sono solo le prime cose che si può fare con la towncraft io ragazzi credo che mi prenderò un po' della mia canna da zucchero e vi saluterò per questo episodio il prossimo episodio sarà lo farò soltanto di costruzione praticamente quindi se non vi interessano quelle cose salutatelo tranquillamente nessuno vi costringe semplicemente cercherò di costruire una casa carina qua sulla facciata della montagna e speriamo funzioni si potrebbe funzionare si potrebbe fare va bene niente perché poi vi farò vedere cosa in mente di fare niente ragazzi il mio nome è come sempre Quit108 e ciao a tutti